E' effettivamente questa una memoria, potremmo dire a rischio, una memoria dall'altra parte salvata, una memoria che ha ancora necessità di essere conosciuta e di essere conosciuta liberandola anche da quelle contrapposizioni ideologiche che a volte inficiano questo giorno del ricordo. In questi giorni si sono diffusi alcuni manifesti da parte di alcune amministrazioni regionali che mentre da una parte tentano di ricostruire questa memoria, dall'altra parte la riportano ad una loro contrapposizione. Fu una vicenda complessa questa, fu una vicenda complessa legata alla dominazione fascista di questi territori. Fu una questione complessa a causa dei mutamenti geopolitici dell'Europa. Fu una questione complessa per la mancata accettazione anche degli stessi esuli da parte dello Stato italiano, dove questi esuli non furono sicuramente accolti con la dignità di cittadini italiani. Ed è per questo che credo sia importante continuare nella ricostruzione e nella diffusione del contesto storico che ha portato alla creazione di questa vicenda purtroppo tragica dell'Esodo e la vicenda tragica, altrettanto tragica dell'Efoide. Riportiamo alla luce vicende che hanno un'antica origine, riportiamo alla luce vicende che purtroppo a volte sembrano ancora non concluse. Io credo che mentre noi in Italia festeggiamo il giorno del ricordo, in Slovenia fu istituito un giorno dal titolo Festa del Ritorno, del litorale sloveno alla Madre Patria, che si tiene ogni 15 settembre, ossia la data dell'entrata in vigore nel 1947 del Trattato di Pace di Parigi. Io credo che il compito della storia sia anche liberarla dalle proprie impurità. Do ora la parola a Laura Coci, che ci porterà in questo percorso dal titolo Il confine orientale tra storia e memoria. Grazie. Audio, scusatemi. Eccomi. Buonasera a tutte, tutti, con loro che ci ascoltano, che ci vedono in diretta e anche a quanti ci vedranno nei giorni successivi. In confine orientale tra storia e memoria, la prima parte di questo titolo si richiama esplicitamente al giorno del ricordo, a quella complessa vicenda che deve essere guardata nella sua interezza. Tra storia e memoria perché? Tra storia e memoria perché è importante che la conoscenza del passato sia acquisita con consapevolezza e criticità. Non si esaurisca nell'emozione e nella sofferenza, pur senza nulla togliere alle vittime. Nulla, appunto. Alla dignità delle vittime, delle popolazioni civili, dell'una e dell'altra parte, che hanno sofferto prezzi altissimi, hanno pagato costi altissimi. Quest'immagine richiama la vittoria mutinata, ovvero la vittoria italiana nella grande guerra. Quando fu istituito in giorno del ricordo, si parlò di mutinazione delle terre adriatiche, perché dopo i trattati di pace di Versailles del 1919, l'Italia non ebbe in riconoscimento sulle terre adriatiche, appunto. In realtà poi, in giorno della memoria, come ha ricordato Ivano Mariconti, è celebrato il 10 di febbraio di ogni anno, ma questa data non è una data che attiene a Nefoibe o a Nesodo. È, al contrario, una data del Trattato di Parigi, che appunto divise, dopo la Seconda Guerra Mondiale, quei territori, come sappiamo, in una zona A e in una zona B. La prima, sotto mandato internazionale, la seconda, assegnata alla Jugosnavia. È una vicenda compressa, questa, molto compressa. Sono stati scritti libri straordinari, non è certo nella mia possibilità e competenza tracciarla in modo esaustivo questa sera, per cui la vicenda viene ripercorsa molto rapidamente. Mi soffermerò poi su due focus, in primo l'incendio del Narodnidom, in secondo il dramma delle Foibe e del Nesodo Giuliano Darmata. Vediamo soltanto qualche immagine di questa vicenda. Questa vicenda che parte in 13 lugno del 1920, con l'incendio della casa dell'Arcultura Smovena a Trieste, il Narodnidom, che passa attraverso l'aggressività del fascismo di confine, che si rivolge agli cosiddetti annogmotti, cioè persone native di quei territori che parlavano però altre lingue, come lo smuveno e in croato, in modo dispregiativo, proibendo l'uso di queste lingue, giungendo, come si vede nella terza immagine, addirittura a cambiare i cognomi, ma non solo, a cambiare le incisioni sulle lapidi dei cimiteri, a proibire l'uso delle lingue slovena e croata, non solo nella pubblica amministrazione, ma per esempio anche nelle omenie, nei riti religiosi. È una vicenda che passa attraverso un'occupazione della Jugosnavia, anzi un'aggressione alla Jugosnavia, in 6 aprile del 1941 da parte dell'Italia, senza dichiarazione di guerra. L'internamento della popolazione civile, la seconda foto non è stata scattata da Auschwitz, ma nel campo di concentramento di Arbe Rab, un campo di concentramento italiano per le popolazioni di quei luoghi, che passa attraverso una feroce repressione del movimento partigiano italiano e smuveno a Trieste da parte del Reich. Questa è la celebre immagine di una ferocissima rappresagna. Ancora a Trieste, in questi territori, abbiamo un'unico campo di sterminio, ancora nel territorio del Terzo Reich, oggi in territorio italiano, che è una risiera di San Sabba. E poi, in dramma delle foibe, quello degli esuni, questa è una celebre fotografia di esuni che nasciano le proprie terre. E ancora, nel dopoguerra, la mancata giustizia. Perché se nell'immediato dopoguerra la Jugosnavia di Tito era vista come nemica, poi, quando quel paese si è distaccato dal blocco di Varsavia, è stato visto come un vicino affidabile. Per cui non c'è stata giustizia, non sono stati consegnati né i criminali italiani di guerra, che avevano compiuto azioni feroci durante la guerra, da una parte, e dall'altra non sono stati consegnati all'Italia i criminali sloveni e croati, che si erano macchiati di delitti contro una popolazione civile. Tutto in nome, diciamo così, degli equilibri geopolitici. E questo ha rappresentato una nuova offesa per le vittime, da una e da un'altra parte, di quelle drammatiche vicende. Trieste, sappiamo, ha un'identità di frontiera, è una città bellissima, ma sappiamo che lungo le frontiere le identità possono diventare concorrenti o anche ostini. Nel caso di Trieste, nel caso della Venezia Giulia, è quello che è accaduto, anche se noi andiamo a esaminare i conti che ci sono a Trieste, e nella Venezia Giulia, e poi anche nella regione adriatica. le comunità e anche nella letteratura, vediamo che c'era e c'è un intreccio difficilmente sciognibile, diciamo così, distinguibile. Se noi pensiamo, per esempio, a un culto, abbiamo a Trieste una cattedrale, una meravigliosa cattedrale di San Giusto, cristiano-cattolica, ma abbiamo anche un cimitero ottomano, a partire dal mille 849, una forte comunità ebraica, una sinagoga è stata costruita nel 1912, ma la comunità ebraica a Trieste viveva in città da secoli. Abbiamo due chiese ortodosse, quella greca, quella di San Nicoloide, una Santissima Trinità, e quella serba, una Santissima Trinità, e San Spiridione. Abbiamo anche due chiese riformate, una chiesa evangelica riformata, indetica e vandese, nell'antica, nell'antica, perdonatemi, basilica di San Singuestro, e quella muterana. Quindi, la presenza di questi molteplici luoghi di culto ci dice di una città dove comunità, lingue, culture si sono incontrate e scontrate. Lo stesso va nei perni comunità. Queste sono carte etniche del 1855, 1910-11, 1921. La comunità italiana è ben presente a Trieste e nelle città, ma sono presenti anche nelle comunità croata e qua la smuovena. A Trieste è particolarmente evidente, qui in blu, qui in rosso, la presenza degli italiani, né in territorio, però, vicino, vedete che ci sono forti presenze smuovene. Lo stesso proprio per quanto riguarda la regione di Trieste. se noi poi andiamo a parlare di letteratura e non è un caso che io abbia messo anche in nome del padre e della madre di questi letterati che costituiscono in vanto della nostra letteratura italiana tra otto e novecento, vediamo che Itamo Svevo si chiamava in realtà Aaron Hector Schmitz ed era figlio di Franz Schmitz e di Annegra Moravia, quindi un'origine germanica perché c'era e c'è anche quella componente a Trieste ed ebraica che Umberto Saba si chiamava Umberto Poni figlio di Edoardo e di Felicità Rackene Cohen di madre ebraica. Virginio Giotti che ha scritto meravigliose poesie meravigliose in irica in triestino si chiamava Virginio Schoenbeck figlio di Riccardo e di Emilia Ghiotto e ancora Scipio Slata per il redentista era figlio di Luigi e di Iginia Sandregni. Tutte queste identità monteplici sono state raccontate da un grande triestino che è Claudio Magris. Ecco quindi anche la necessità di comprendere questa complessità e anche di capire come il fascismo abbia rivolto particolare attenzione e particolare ferocia nell'occupazione di queste terre. Vediamo in primo di questi focus russa che è diciamo così che interessa la parte slovena che è l'incendio del Narodli Dom ovvero la casa della cultura slovena di Trieste secondo il grande scrittore Boris Pachor che era presente in un incendio di cultura di lingua slovena conosce però anche benissimo l'italiano e poi è stato devo dire perseguitato da tutti italiani poi tedeschi ancora come critico nei confronti del comunismo sgradito anche agli slavi secondo Boris Pachor l'incendio del Narodli Dom Pachor è nato nel 1913 ed è ancora vivo ha visto l'incendio in 13 di lugno del 1920 è stato un evento fondante della sua vita ha dedicato a questo questo evento un bellissimo racconto che si chiama Il Logo nel Porto di cui ora Roberto Dempiano vi leggerà un breve passaggio Piazza Oberda era piena di gente che gridava in un alone di luce scarlatta attorno al grande edificio invece c'erano uomini in camicia nera che ballavano gridando viva viva correvano di qua e di là annuendo con il capo e scandendo eia 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 e gli altri allora di rimando alala improvvisamente le sirene dei pompieri cominciarono a ululare tra la folla ma la confusione aumentò perché gli uomini neri non permettevano ai mezzi di avvicinarsi li circondarono e ci si arrampicarono sopra togliendo di mano ai pompieri le manichette eia 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 allala gridavano come dei forsennati e tutto attorno c'era sempre più gente tutta Trieste stava a guardare l'alta casa bianca dove le fiamme divampavano a ogni finestra fiamme come lingue taglienti come rosse bandiere evca si avvinghiava a branco perché nella grande casa oltre alle fiamme si vedevano anche delle figure umane alle finestre e una di esse era appena salita sul davanzale guizzando accanto alla lingua rossastra che lambiva la finestra evca rabbrividì e anche branco si stansì a lei in Narodnidom è una casa della cultura smovena di Trieste costruita nel 1904 su disegno di uno straordinario architetto Jungensting Max Fabiani proprio in Sting e Art Nouveau ed è concepita come uno spazio polifunzionale ospita ospitava scusatemi Motegbankan infatti si parla anche di incendio del Bankan che viene costruita anche grazie a una sottoscrizione eh attivata all'interno della comunità smovena qui vedete appunto un tagliandino della sottoscrizione si trovava si trova è stata ricostruita nel quartiere teresiano che è in quartiere economico di Trieste quello voluto da Maria Teresa d'Austria infatti come sappiamo Trieste fino al 1918 apparteneva all'impero austro-ungarico è uno spazio era uno spazio che ospitava concerti rappresentazioni teatrali esibizioni ginni che qui infatti vedete una fotografia sulla terrazza eh della 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 orchestra di lingua smovena ospitava poi anche uffici eh studi eh negali una redazione di un giornale medinos è interessante proprio leggere quello che scrive eh un redattore di questo quotidiano di lingua smovena in ventinove ottobre del 1904 a pochi mesi dall'inaugurazione di questa ehm di questo edificio da qualche tempo a questa parte gli sloveni di Trieste si attengono alla saggia politica di evitare festeggiamenti chiassosi che portavano spesso a scontri con l'elemento italiano ma si limitano alla soddisfazione di testimoniare con l'apertura stessa del Narodni Dom la propria presenza a Trieste molto diverse sono le parole di Virginio Gaida che sarà poi fascista questo testo in Italia ad un tre confine nelle province italiane d'Austria è del 1914 una guerra mondiale le grandi guerre del fascismo sono ancora a dinare da venire ma a quest'antezza cronologica Gaida osserva il centro di tutto il movimento sloveno di Trieste è il Narodni Dom la casa nazionale e come un quartiere generale un secondo municipio autonomo impiantato a Trieste per la esigua minoranza slava la sede di tutte le associazioni il punto di partenza di tutte le agitazioni il punto di raccordo di tutti gli altri Narodni Dom sparsi per la Venezia Giulia nelle regioni insidiate o conquistate dagli slati occupa un intero palazzo a tre piani che fronteggia una piazza nel cuore di Trieste gli sloveni l'hanno voluto lì perché tutti i forestieri lo vedessero il riferimento è altri Narodni Dom perché ne era stato inaugurato uno anche a Pona e facciamo un balzo di diversi anni arriviamo il 18 settembre 1938 questa fotografia come ben si vede immortana Benito Mussolini nell'atto di annunciare le cosiddette leggi raziane in realtà sono leggi anti-ebraiche e questo annuncio è fatto proprio a Trieste in piazza Unità d'Italia non è un caso non è un caso perché Mussolini afferma che è tempo che il popolo italiano acquisisca una chiara severa coscienza raziale che stabilisca non soltanto delle differenze ma delle superiorità nettissime superiorità e inferiorità se gli ebrei sono subumani non sono uomini Ivano credo possa dirlo meglio di me in tedesco non mi azzardo sotto uomini appunto però le razze sappiamo che le razze non esistono ma lo sappiamo ora le razze slave sono considerate dal fascismo e anche dal nazismo razze inferiori per cui l'inferiorità degli dei cosiddetti slavi smuveni e croati rispetto agli italiani e questo ovviamente ha poi anche pesanti ripercussioni non è un caso che un incendio del Narodnidom sia considerato un evento di autocoscienza nazionale non soltanto da parte smuvena Boris Pahor ma anche da parte fascista questo volume a vostra a sinistra vedete un quadro l'incendio del Notenbankan più tardo ma soprattutto credo di soffermare l'attenzione sull'immagine di destra in fascismo nella Venezia Giulia un libro di Michele Rison edito a Trieste nel 1932 da le origini alla marcia su Roma le origini rivendicate sono l'incendio della casa della cultura smuvena questa sorta di Kristallnacht Notte dei Cristanni così come c'era stata la Notte dei Cristanni in Germania ci sarà anzi dopo perché in Germania avviene nel novembre del 1938 in cui si distruggono i negozi ebrei in questa terribile sera e notte da in tredici lugno da in venti ci sono poi altri venti episodi di aggressione a smuveni e comunità persone negozi poi saccheggiati e almeno diciannove sono riconducibili hanno lo stesso manipolo di fascisti come si esce se ne esce così la lettura a Roberto Dempiano dal piccolo di Trieste del 23 gennaio del 2020 i capi di stato di Italia e sloveni hanno fissato per il 13 luglio prossimo la cerimonia di restituzione alla comunità slovena dell'ex narodni dom di via filzi ora sede della scuola per traduttori e interpreti l'edificio dato alle fiamme dei fascisti cento anni fa il 13 luglio 1920 come si apprende da un comunicato dell'ufficio del presidente sloveno Borut Pahor la scelta è stata comunicata dal presidente Sergio Mattarella non è l'ultima immagine di Mattarella e Pahor che vedremo ma andiamo alla seconda parte di questa come dire di questa sommaria sintesi delle tragedie del confine orientale quella che riguarda la parte italiana quindi Danne Foibe all'esodo Giuliano D'Arnata vedete nell'immagine di sinistra quello che è il simbolo delle Foibe anche perché è unica di queste cavità carsiche ormai in territorio italiano Monte Foibe sono infatti in territorio croato o smuovino la Foibe di Basovizza e vedete a destra un'immagine di profughi in partenza con le navi messe a disposizione della Repubblica italiana dobbiamo assolutamente distinguere perché se si parla di Foibe ed è assolutamente giusto parlarne occorre però essere precisi e puntuali abbiamo due stagioni di Foibe quella dell'autunno 1943 le Foibe istriane perché sono convocate soprattutto nel territorio dell'Istria autunno 1943 pensiamo all'8 settembre alla proclamazione dell'armistizio che peraltro era stata firmata era stato firmato cinque giorni prima e in Istria è assolutamente in caos non dimentichiamo che in Istria era stata occupata dagli italiani ma dopo appunto questa la proclamazione dell'armistizio quando i tedeschi da alleati diventano nemici viene rioccupata dalla Wehrmacht e quindi dalle truppe del Terzo Reich prima però il movimento popolare di liberazione iugoslavo assume il controllo del territorio ed ecco che abbiamo una prima fase in cui ci sono stupri delitti faide familiari e uccisioni di massa in luoghi però appartati sono cose che si fanno ma si devono fare di nascosto di questa fase secondo le fonti più accreditate perché poi sui numeri delle foibe è stata fatta anche una penosa guerra di cifri fosse stata anche una sola persona infoi bata sarebbe stato gravissimo comunque i numeri di questa fase sono piuttosto contenuti si parla tra persone infoibate o scomparse quindi le persone scomparse che assimiliamo evidentemente alle persone che sono state uccise in un numero di circa 500 Biagio Marin grandissimo poeta istriano nelle meravigliose struggenti energie istriane ha sottolineato anche lo shock diciamo da parte italiana nello scoprire che quelli che erano ritenuti fratelli sulla stessa terra sull'antare che navigavano insieme e qualcuno degli italiani segnatamente fascisti considerava cani da scassare cioè cani da bastonare si erano ribellati e avevano poi anche ucciso degli italiani dobbiamo considerare anche che la repressione ecco queste sono alcune immagini relative proprio alle foibe istriane io ho cercato di essere sinologica nelle immagini immagini di persone esumate e di riconoscimenti immagini di massacri dobbiamo però anche sottolineare come la successiva repressione da parte della Wehrmacht del nazismo abbia causato circa due miglia due miglia cinquecento vittime non sono tra gli slavi ma anche tra gli italiani e arriviamo alla seconda fase delle foibe quella delle foibe giumiane cioè nei territori intorno a trieste primavera 1945 dobbiamo chiederci preliminarmente quando finisce una guerra una guerra purtroppo non finisce con una tregua con un armistizio anche nel nostro territorio nel nodigiano dopo la liberazione dopo il 25 aprile ci sono stati massacri vendette eccidi e anche questo e questo è anche accaduto evidentemente nella Venezia giumia qui vedete una richiesta del comitato di liberazione nazionale giumiano perché sia fatta verità sia resa nota la verità sulle persone scomparse e siamo appunto alla foiba di Basovizza ora ma che cosa è accaduto è accaduto che la repressione dei civili non è finita in una famosa o famigerata Osna in dipartimento per la protezione del popolo jugoslavo decide di perseguire perseguitare i traditori del popolo vengono perciò effettuati nella regione di Trieste tra i 10.000 e i 12.000 arresti di italiani quasi tutti italiani per dire la verità in documento dell'Osna in comunicato dell'Osna del 30 aprile del 45 ammonisce affinché si ci sia una depurazione immediata sulla base non della nazionalità ma del fascismo ma questo di fatto non viene rispettato ecco per cui che cosa accade accade che le persone sono arrestate molti civili scompaiono abbiamo delle cifre precise per quanto riguarda il territorio di Trieste perché ci sono i documenti e sono i documenti che bisogna guardare nelle nazioni della Croce Rossa piuttosto che altri e abbiamo 2.627 persone scomparse quindi presumibilmente in foibate nei territori di Udine Gorizia e Trieste in realtà poi i numeri sono più imprecisi per quanto riguarda i territori di Pone e Fiume perché quello ormai è divenuto territorio jugoslavo almeno un migliaio di persone Raun Pupo e anche gli studiosi appunto italiani e sloveni reputano che si possa arrivare a un numero di circa 5.000 persone che sono molte sono tante sono tantissime e non erano tutti fascisti assolutamente no erano magari persone punite per antipatie persone che ricoprivano importanti o ritenute importanti posizioni sociali potevano essere anche religiosi e le foibe diventano quindi uno strumento prima di tutto punitivo nei confronti del fascismo e della popolazione italiana che viene identificata a torto o a ragione in alcuni casi a torto in altra ragione con il fascismo ancora c'è una volontà di epurazione e poi c'è sicuramente una volontà intimidatoria per cui è evidente che una comunità italiana con quello che è accaduto una comunità che è sopravvissuta non può sentirsi sicura quindi l'intimidazione funziona e abbiamo un esodo Giuliano D'Armata la foibe di Basovizza tra l'altro Basovizza anzi ha una duplice valenza come vedremo perché proprio qui che è un luogo della memoria per questa tragedia per gli italiani ma nel 1930 erano stati fuccinati quattro patrioti smoveni condannati a morte dal tribunale per la sicurezza nazionale fascista e quindi per gli italiani è il luogo della foibe per gli smoveni è il luogo del martirio di questi quattro irredentisti smoveni che sono considerati smoveni esattamente come in Italia consideriamo Gugnielmo Oberdan o Cesare Battisti o Fabio Fizzi ma veniamo alla tragedia dell'esodo in realtà noi oggi giustamente con un giorno di ritardo ci concentriamo su un esodo giugniano d'Agata in realtà gli spostamenti forzati di popolazioni dopo la seconda guerra mondiale sono enormi 15 milioni di persone il nazismo aveva spostato in Polonia in Cekosmovacchia nell'Unione Sovietica nella cosiddetta Russia Bianca persone di nazionalità tedesca che nel dopoguerra devono ritornare a casa e ancora o anche per esempio dall'Europa centro-meridionale dall'Istria e dal territorio divenuto jugoslavo fuggono circa 300.000 persone andiamo appunto a parlare di questo esodo e lo facciamo prima di tutto leggendo un passaggio in nella benna lingua triestina e istriana un passaggio da una delle energie istriane di Biagio Marin non credo ci sia bisogno di traduzione pola i gira trentamila e i alassau le case con teste basse e rase a miera tutti in fila come parpinitense e adesso in quel silenzio la zente ndeva via in bocca dall'assenso della longa anguria e pola gira sola co case svode in pianto la sola zente intanto c'è senere che svola un'immagine tanto benna che evoca un dolore tanto grande che per me è difficile non commuovermi e mi scuso ma d'altra parte anche come storica donna rivendico questa commozione perché non si può non partecipare a quanto accaduto e nelle fotografie vedete appunto le immagini di questo esodo è un esodo perché le persone che hanno lasciato le nuove case non lo hanno fatto volontariamente lo hanno fatto costrette non tanto non soltanto perché magari alcuni non condividevano il governo jugoslavo questo governo socialista ma anche perché con una serie di disposti non di tipo persecutorio ma che rendevano comunque difficile rimanere in Jugoslavia il governo jugoslavo ha in qualche modo incoraggiato gli italiani una comunità italiana ad andarsene e questo esodo giustamente si chiama così proprio perché è una migrazione forzata inizia nel 1944 con la guerra ancora in corso quando la comunità italiana nasce Zara città oggi croata Zadar bellissima città tra l'altro su una costa e abbiamo appunto mi pare oltre diecimila italiani che nasciano Zara la sua città di Zara successivamente l'esodo avviene anche in ragione dell'insicurezza della valenza intimidatoria delle foibe soprattutto soprattutto tra il trattato di Parigi 1947 con istituzione del territorio libero di Trieste sotto mandato angloamericano ed è una zona B sotto una giurisdizione jugoslava e il memorandum di Londra del 1954 quando Trieste diventa torna a essere italiana abbiamo oltre 250 mila italiani fiume viene abbandonata nell'estate del 45 po soprattutto nell'inverno del 46 47 vi è poi una ondata una nuova ondata più tardiva ma di questa ci parleranno i nostri ospiti nel 1953 che cosa accade l'8 ottobre del 1953 in governo angloamericano emana una nota bipartita promettendo o anticipando la restituzione di Trieste in Italia ci sono delle manifestazioni a Trieste represse con durezza proprio dall'esercito angloamericano ci sono sei morti e questo avviene tra in tre e in sei di novembre di quell'anno e c'è una reazione della componente slovena o slava per cui quegli italiani che molti di quegli italiani che erano rimasti decidono di andarsene proprio nell'autunno inverno del 1953 e purtroppo chi se ne va poi ci racconteranno i nostri ospiti le circostanze avventurose in cui sono fuggiti i loro genitori ma chi se ne va diciamo tra in quarantasette quarantacinque e quarantasette può portare con sé soltanto cinquanta chimogrammi di vestiario e masserizze ventimiga lire non sono le ventimiga lire di oggi o di duemiga ma non erano monte per ciascun capo famiglia più cinquemiga lire per ogni componente della famiglia quindi abbiamo queste immagini davvero davvero marinconiche e commoventi proprio di un di un esodo ecco questa vedete la nave toscana per l'appunto purtroppo come ricordava il nostro Ivano Mari Conti in Italia non è terra di asino abbiamo centonove centri racconta profughi su tutto il territorio nazionale pensate che la stessa risiera di San Sabba divene un centro per profughi era stata un campo di sterminio ci sono delle immagini non molte per la verità in rete non ne ho volute inserire per dignità davvero tristi con appunto come dire dei quadrati di quattro metri per quattro separati uno dall'altro da pareti di compensato che non arrivano al soffitto una condizione anamoga io l'ho vista davvero soltanto per i profughi cossovari senza contare che spesso poi queste persone sono quasi in condizione di detenzione cioè non sono libere di muoversi e in processo di integrazione non dico per tutti ma per alcuni si chiude negli anni settanta leggiamo dal discorso di del nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarenna in occasione del giorno del ricordo del 10 febbraio 2018 anche le foibe e l'esodo forzato furono il frutto avvelenato del nazionalismo esasperato e della ideologia totalitaria che hanno caratterizzato molti decenni nel secolo scorso i danni del nazionalismo estremista dell'odio etnico razziale e religioso si sono perpetuati anche in anni a noi molto più vicini nei Balcani generando guerre fratricide stragi e violente disumane le stragi le violenze le sofferenze patite dagli esoli giuliani striani fiumani e dalmati non possono essere dimenticate sminuite o rimosse esse fanno parte a pieno titolo della storia nazionale ne rappresentano un capitolo incancellabile che ci ammonisce sui gravissimi rischi del nazionalismo estremo dell'odio etnico della violenza ideologica retta a sistema in questa immagine scattata allo stesso giorno in cui Anna Comunità Smovene è stato restituito il Narodnidom vedete il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarenna e Bort Paol davanti a una foiba di Basovizza Paol presidente Smoveno rende omaggio agli italiani morti e nell'immagine successiva vedete sempre Mattarenna e Paol davanti al monumento commemorativo degli antifascisti Smoveni Mattarenna rende omaggio agli antifascisti fucinati il 6 settembre 1930 perché condannati a morte dal tribunale per la difesa dello Stato e quindi vedere questi due presidenti mano nella mano riconoscere in dolore reciproco dei propri popoli uno in dolore dell'altro riaffermare la necessità di ricordare come ha detto lo stesso nostro presidente ricordare le sofferenze patite dagli esumi beh questo ci nasce comunque una speranza di un confine adriatico più pacificato in cui questa compressa vicenda si possa in qualche modo ricomporre e ricucire questa fotografia la devo a una cortesia di Luigi Bologna è stata pubblicata su un cittadino e credo che faccia parte sia una fotografia preziosa nell'ambum di questa famiglia mostra il padre il signor Mario la mamma la madre Giuseppina Mugnani e il signor Simbio che vediamo qui ma è tempo che io lasci una parola ai nostri ospiti interrompo la condivisione vi chiedo di accendere il microfono spengo il mio e vi ascoltiamo innanzitutto buonasera a tutti la nostra può essere una testimonianza cioè magari un po' meno colta dal punto di vista storico ma sicuramente di una vicenda vissuta l'amore che i nostri genitori portavano per la loro terra Isola d'Istria e ci hanno indotto mi hanno indotto ad aderire a partecipare a questo incontro e in quanto in famiglia abbiamo sempre tenuto alle nostre origini alle nostre radici e quindi in memoria dei nostri genitori che ormai sono defunti il Lugnani Giuseppina e il nostro padre Mario Bologna ecco cerchiamo di raccontare un attimo la la nostra la vicenda noi figli abbiamo vissuto e condiviso l'attaccamento per la terra di la terra d'Istria che è la nostra appunto origine e le nostre radici e questo non solo dal mio fratello Silvio che è qui con me che è veramente un esole perché è nato a isola d'Istria profugo e quindi è poi stato esole a 16 mesi di vita o giù di lì ma anche da da noi altri due fratelli a Lodi al punto di avere fatto nostro anche il dialetto istriano che si parlava normalmente in caso dei genitori a scuola avevano richiamato i genitori dicendo ma dovete parlare in italiano perché altrimenti fanno confusione no isola d'Istria è un paese a circa 30 chilometri da Trieste e come Pirano Umago Cittanova e tanti altri paesi dell'Istria è di una straordinaria bellezza ed ha una lunga e antica storia i miei genitori e tutti gli isolani vivevano in una comunità povera ma allo stesso tempo contenta e felice di quello che aveva il mare la campagna una comunità solidale i nostri genitori raccontavano che durante la seconda guerra il paese come pure i paesi vicini era stato inizialmente interessato marginalmente dagli eventi di guerra e questo almeno fino al 42 43 come pure in tutta Italia governavano i fascisti ed essendo l'Istria abitata prevalentemente da popolazioni italiane con una modesta ignoranza slava i miei genitori ci dicevano che non si erano manifestati fatti di intolleranza o peggio fatto che invece pare sia avvenuto purtroppo a discapito delle popolazioni slave in Dalmazia e in tutta la zona e oltre ari occupate dall'esercito purtroppo italiano dal 1943 però tutto è cambiato a seguito della caduta del fascismo dei repubblichini l'arrivo dell'occupazione tedesca ed anche l'inizio dei problemi con i partigiani di Tito e gli Slavi in genere anche a Isola d'Istra tutto è cambiato da allora nella regione ha regnato l'insicurezza la paura lo scomento prima hanno iniziato a spadroneggiare i tedeschi entrando nelle case portando via quanto trovavano mi ha fatto le spese anche il mio povero nonno Luigi padre di mia madre a cui hanno sequestrato tutto quanto hanno potuto mio nonno era un contadino ed aveva vari appezzamenti in campagna che coltivava ed anche alle spalle di Isola d'Istria ed anche qualche vigneto di Re Fosco e di Teran poi i tedeschi hanno iniziato a reclutare forzatamente uomini per lavorare per la TOD un reparto che aveva il compito di scavare soprattutto trincei lungo le coste e mio padre che allora aveva 17 anni e che faceva il pescatore dall'età di otto anni raccontava che aveva preferito scappare in campagna e nascondersi per diverso tempo in un casotto a trezzi del nonno Luigi con il terrore di essere preso e mandato in un campo di concentramento ma il peggio però doveva ancora avvenire con l'arrivo degli slavi nel 45 i trusi i titini come venivano chiamati l'Istria italiana e non solo si è ritrovata perseguitata osteggiata denigrata è iniziata una vera pulizia etnica un'epurazione degli oppositori e non solo anche per semplici vendette come diceva prima Pocanzi per un decennio ci sono stati sopprusi intimidazioni persecuzioni tutto eseguito in una regia volta a obbligare gli italiani a lasciare la loro terra si è restaurata la Puglia amministrazione militare dell'armata ovviamente Jugoslava molti venivano arrestati con motivi pretestuosi diverse persone hanno iniziato a sparire anche in famiglia lo zio Giovanni il giovane fratello del nostro nonno paterno che faceva il canzolaio è stato tra questi in seguito si è saputo che era finito nelle foibe come molti altri di cui non si era più saputo nulla i titini imperversavano potevano rendersi autori di qualsiasi iniquità senza dover rendere conto ad alcuno erano subentrati in tutte le cariche pubbliche imponevano di esporre le bandiere jugoslave e i dimori del paese erano imbrattate con scritte inneggianti a tito e contro gli italiani l'Ostna la pericolosa polizia segreta jugoslava creava terrore tra le popolazioni italiane ed anche a Isola d'Istria se ne portavano le conseguenze a Isola d'Istria al termine della guerra per i primi anni si era formato un comitato cittadino provvisorio per il governo del paese o meglio per la tutela dei cittadini italiani di cui ha fatto parte anche lo zio di mia mamma Don Giuseppe Dagri che era il parroco di Isola d'Istria che già in precedenza si era prodigato insieme alle autorità italiane per evitare a tanti di essere deportati in Germania poi è divenuto oltretutto una volta che si era trasferito scappato a Trieste è diventato monsignore addirittura vicario generale della diocesi di Trieste e proprio per essere stato il parroco rappresentante della comunità cristiana del paese nonché membro del comitato cittadino che si era formato oltre a essere tacciato di oltre a essere tacciato di essere fascista ha iniziato ad essere perseguitato e di questo ne hanno fatto le spese anche le nipoti tra cui mia mamma la sorella di mia mamma zia Maria ha rischiato di essere arrestata in fabbrica perché si era ribellata alle imposizioni che erano state fatte e non era stata zitta quando aveva voluto dire la sua ed aveva risposto male allo slavo di turno lo zio Ivo fratello di mio padre era stato invece fortunato a non avere conseguenze dopo che era uscito in strada sventolando la bandiera italiana probabilmente in quanto non era stato poi individuato in quei momenti anche il vescovo di Capodistria era stato picchiato durante una cresima nel 1947 a Parigi l'Italia e le potenze alleate hanno stabilito che il territorio di confine dell'Istria e del Friuli Venezia Giulia doveva essere suddiviso in zona A per il territorio libero di Trieste e nella zona B amministrata dalla Jugoslavia di cui faceva parte appunto Isola d'Istria e l'assegnazione alla Jugoslavia del resto dell'Istria e di buona parte del territorio del Friuli Venezia Giulia Per gli abitanti di Isola d'Istria amministrati dalla Jugoslavia la situazione è diventata ancora più critica di quello che già lo era senza prospettive certe per il futuro mentre continuavano i sopprusi da parte dell'amministrazione slava tra cui la cacciata di tutti i maestri di scuola che si erano rifiutati di firmare una dichiarazione che imponeva loro di rinnegare il passato italiano e di ritornare sulla retta via per il potere popolare è iniziato l'esodo dalla zona B data la poca distanza del territorio libero di Trieste spesso venivano utilizzati dei camion o altri mezzi di trasporto o di ripiego mentre le città molto più lontane dell'Istria utilizzavano ad esempio il Toscana i vari piroscafi per lasciare Isola d'Istria però ci voleva un'autorizzazione da parte dell'amministrazione slava gli slavi mettevano a disposizione i camion per il trasporto delle masserizie facendo però firmare dei documenti con cui si rinunciava alla propria proprietà lo chiamavano l'allegato se non ricordo male e con la sorveglianza tra l'altro sempre fissa di un funzionario slavo che controllava cosa poteva o non poteva essere caricato sui mezzi con gli anni anche le due grandi fabbriche conservaturificie per il pesce presenti a Isola d'Istria l'Ampelea e l'Arigoni che avevano dato lavoro a metà paese hanno dismesso la produzione e spostato in Italia i macchinari i miei genitori hanno dovuto abbandonare tutto nel dicembre del 1952 non il 1953 abbiamo fatto bene i conti mia madre quando diceva 1953 probabilmente si sbagliava due anni prima dell'intesa tra Italia e Jugoslavia del passaggio definitivo a quest'ultima della zona B mio padre ha preceduto la famiglia scappando da Isola d'Istria in barca era un pescatore e quindi per poi raggiungere la sorella Silvia a Lodi dove si era trasferita una volta che aveva sposato un certo Moretti Gaddo che probabilmente molti avranno conosciuto allenatore giocatore di calcio nonché funzionario poi della della fabbrica e padre di Lucio Moretti che forse magari allora qualcosa vi ricordo perché è un giovane anziano scrittore di Lodi a Lodi mio padre aveva preceduto la famiglia per cercare casa e un lavoro mia madre il fratello Silvio la nonna Irene madre di mio padre sono a loro volta scappati a Trieste passando il confine perché non avevano potuto lasciare avere l'autorizzazione forse magari anche perché erano tacciati di essere nipoti del parroco fascista e quindi quindi hanno dovuto passare il confine con un falso permesso per una visita medica presso l'ospedale di Trieste in pratica portando quasi nulla con loro a Trieste la mia famiglia assieme a molti altri sfollati è stata da prima internata nel campo profughi di Santa Croce sopra Barcola il zona di Prosecco quella zona il Barcola che è l'attuale riviera di Trieste dopo qualche tempo con il foglio di via rilasciato dal Comitato di Liberazione Nazionale di Trieste sono stati trasferiti a un campo profughi vicino a Udine in un cappannone al freddo in brande di fortuna raccontava la mamma alle finestre mancavano i vetri ed era inverno e mio fratello Silvio che aveva un anno e mezzo continuava a piangere poi dopo ha migliorato dopo qualche mese era stato possibile per la mia famiglia lasciare il campo profughi per raggiungere mio padre Lodi con una piccola somma per il viaggio si raccontava che anche sull'importo dovuto 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 qualcuno degli incaricati aveva imbrogliato approfittandosi della situazione perché c'era una un 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 assieme al foglio di via cioè una piccola somma ma pare che avessero imbrogliato anche su quello i miei genitori a differenza di altri che sono rimasti a Trieste o sono emigrati in America come la sorella di mia mamma doveva andarci anche mia mamma tra l'altro aveva già avuto il visto ma poi la nonna la la madre di mio padre non voleva andare in America perché non avrebbe più rivisto la sorella che era Lodi oppure tanti sono andati in Australia i miei hanno deciso i nostri hanno deciso di trasferirsi a Lodi raccontava mia madre che quando sono arrivati a Lodi era dicembre era il giorno di Santa Lucia con un freddo intenso e c'era una fitta nebbia da cui non erano abituati e che ancora di più rendeva attento e sconsolato il loro esodo la mia famiglia è stata ospitata per qualche giorno dalla famiglia della sorella Silvia e dai moretti in via incoronata la casa è arrivata dopo qualche giorno grazie a quel sant'uomo che era padre Granata dei Barnabiti un appartamentino alla Buona in via Seravalle nel complesso del Collegio San Francesco nel frattempo mio padre aveva trovato lavoro come guardiano notturno in un cantiere della Mare Scalca mio padre era di poche parole e gli mancava il suo mare ma mia madre invece raccontava di quei primi anni a Lodi la vergogna di essere controllati dai carabinieri in quanto persone che arrivavano dall'Istria forse sospette fasciste scacciate dai comunisti di Tito ma i miei genitori non erano né fascisti né comunisti ma erano solo degli italiani scacciati dalle loro terre ma a quei tempi ciò non era di certo facile da spiegare raccontava anche dell'estrema povertà battita nei primi anni e raccontava che uno di noi figli si era malato ed il medico aveva prescritto la medicina da prendere ma non c'erano soldi per comprarla e quando il medico era ritornato mia madre ha dovuto scusarsi dicendo che gli era caduta la boccetta per terra ma il medico aveva capito in un'intervista fatta a mia madre Lugnani Giuseppina dal cittadino del 22 febbraio 2018 dopo che aveva per la prima volta partecipato a un evento sulla giornata del ricordo presso il museo civico essa conclude dicendo che i soldati e i poliziotti di Tito avrebbero voluto portarci via anche la dignità ma non ci sono riusciti purtroppo ci hanno portato via la nostra casa il nostro terreno noi a Isola eravamo felici un altro problema che per gli Isoli ha causato per decenni parecchia indignazione è stato il mancato riconoscimento anagrafico della loro italianità solo nel 1981 ma con una circolare ma poi con una legge del 1989 è avvenuto tale riconoscimento ufficiale evitando finalmente di avere indicato nei documenti personali nato in Croazia come peraltro è successo a mio fratello e altre volte nato in Slovenia Jugoslavia o forse a Polide non c'era la provincia non c'era cioè risultava la provincia di Pola che ormai era Croazia eh sì tutto ciò è stato un'ulteriore beffa e mia madre non l'ha mai voluta accettare lottando fino a farsi rilasciare una circolare dalla prefettura di Milano in cui si affermava che e che indicare sui documenti anagrafici Jugoslavia era erroneo dal punto di vista giuridico di merito alle foibe che è una realtà aberrante non giustificata da da qualsiasi cosa che sia successa è tenuta nascosta per decenni dal viene da pensare come possa un uomo arrivare a tanto e nulla vale ogni possibile scusa di ribendicazione e di odio tra le razze i popoli nel settembre scorso con mio fratello Giuliano ho fatto nuovamente visita alla foibe di Basovizza sopra Trieste una delle più citate foibe disseminate nel Carso zona che per le sue caratteristiche geologiche si è purtroppo prestata per nascondere tale abominevole sterminio di esseri umani che avesse occasione di andare a Trieste è una visita che consiglio vivamente di fare per capire meglio quanto è avvenuto in quegli anni anche grazie ai documenti e le fotografie che sono esposte nella piccola aula museale che è presente in loco da giovane spesso andavo a Trieste facevo le mie vacanze dal nonno Luigi dai parenti e cugini che anch'essi esodati erano scappati da Isola d'Istria qualche tempo dopo ed erano rimasti però a Trieste nel Carso ho avuto diverse escursioni ho fatto diverse escursioni con il cugino che all'epoca si dilettava di speleologia ed ho potuto vedere di persona queste cavità nel terreno il ricordo ad esempio un'escursione fatta in un posto chiamato Dolina delle Grotte Dolina è un abbassamento all'interno del Carso dove normalmente ci sono ingressi a grotte e cavità ed era nei pressi di Padriciano che non è non vista poi molto da Vasovizza è una cosa comunque capricciante solo avvicinarsi a quelle cavità e pensare che quelle cavità potessero far sparire in quelle cavità potessero far sparire delle persone ho visto dalla presentazione precedente anche la risiera di San Saba io d'estate facevo molto tempo delle vacanze a Trieste dal nonno che abitava a Servola sopra la ferriera di Trieste e che subito al di là del colle che suddivide con la zona di San Saba e la risiera a quei tempi noi ragazzini avevamo trovato il modo per entrarci era ancora tutto chiuso e in effetti avevamo trovato lei diceva la dottoressa Cocci diceva che era stato anche un campo di concentramento perché infatti abbiamo in tanti locali abbiamo trovato vestiti scarpe anche fotografie questo ricordo mi è rimasto impresso e ogni volta che vedo qualche rappresentazione di San Saba eccetera ritorno con la mente a quelle a quello squalore di quel cortile cioè con con questa ciminiera altissima mentre mentre poi ho saputo ai tempi non lo sapevo ma che nel cortile era stata fatta era stata fatta saltare in aria il vero forno crematorio il quindi ecco cioè mi è venuto ho ricordato anche questo questo momento noi ringraziamo l'istrutto l'Odigiano il Sfreco e l'ANED e la dottoressa Cocci e il il dottore Ivano Mariconti per l'invito che ci è stato rivolto a partecipare a questo evento nel giorno del ricordo delle tragiche vicende storiche umane che hanno interessato nel passato il confine orientale e le terre che le popolazioni italiane hanno dovuto purtroppo abbandonare ringrazio ancora siamo noi che vi ringraziamo per questa testimonianza così intensa questa mia madre due anni prima di morire la vede? sì sì la vedo bene la vedo bene era ricoverata Santa Sabrina e il sabato andavamo a prendere la portavamo in piazza a fare colazione ecco ma mia madre dovrebbe sentire queste cose dette da lei perché appunto come dice mio fratello non ha mai accettato che non si ritenessero italiani infatti in quella legge che lui ha nominato c'è tutto un elenco di comuni e cittadine dove non era necessario indicare la provincia perché altrimenti la provincia era Pola per loro adesso però tanti computer tanti programmi non avevano adottato quella cosa lì e quindi veniva fuori o io Cuslavia o Croazia o Slovenia e mia madre è proprio la cosa che proprio rifiutava assolutamente comunque lui ha spiegato un po' tutto la nostra vita che è stata almeno per i miei genitori molto dura io sono c'ho il certificato di profugo Giuliano per essendo nato là infatti mi hanno assunto sul lavoro anche per quella qualifica che mi era stata data ecco ha capito sì purtroppo dopo pian pianino tutti abbiamo trovato il lavoro tutti abbiamo studiato i miei ha cambiato più di un lavoro e pian pianino ci siamo rifatti ecco però il ricordo delle terre soprattutto ricordate da mia madre bisognava sentire lei ora ci siete voi e portate avanti la sua testimonianza e la sua memoria e poi ci saranno i vostri figli le vostre figne ma non riescono a capire non riescono a capire lo capiranno io credo che lo capiranno come lo capite voi signor Luigi Luigi non è la chiamo Luigi mi chiami pure Laura Luigi non è nato a isola di Istria ma come sue parole è stato capace di tratteggiare questa comunità di pescatori questo luogo quasi fuori dal tempo questa infanzia questa dimensione mitica io sono certa che chi ascolta un testimone diventa a sua volta testimone per cui noi vi ringraziamo e porteremo avanti la memoria trasmetteremo la memoria di questa vicenda e se un giorno vorrete scriverla non noi ci siamo